buongiorno a tutti da fabio sinatti e moreno sinatti però è buonasera e andiamo a commentare subito la befana campestre una delle manifestazioni che iniziano l'anno 2017 direi con il botto perché in questo caso qui effettivamente è stata una manifestazione che diciamo pur nelle difficoltà del freddo molto pungente ha presentato al via tanti partecipanti moreno si nell'arco della serata fra le varie partenze sono partiti più di 400 concorrenti quindi sono essendo la befana di pomeriggio perché sempre di pomeriggio qualcuno o meno ce l'abbiamo sempre però ecco questa è riuscita come manifestazione e fra l'altro dobbiamo dire che siamo stati anche nei tempi che avevamo programmato siamo anche stati in anticipo avevamo paura di finire con il buio invece ancora era molta luce c'era e la fortuna diciamo di avere ecco una bella giornata diciamo molto pungente come abbiamo detto da punto di vista meteo però effettivamente bellissima per poter correre perché poi il terreno non era assolutamente fangoso nonostante diciamo un pizzico di neve della sera precedente però non ha influito assolutamente sulle condizioni diciamo del terreno infatti qui non c'è questa è la prima gara partita alle 2 20 io non ero ero da un'altra parte non l'ho vista neanche per niente però ecco a mezzogiorno ancora c'era un po di neve sulla proprio sul prado sul percorso dopo è andata via si è alzata un pochino la temperatura però ecco il terreno era ideale per correre anche senza scarpe chiudate ecco fra l'altro qui stiamo commentando la gara amatori e master femminile maschile poi faremo vedere la gara diciamo assoluta femminile e poi l'assoluta maschile diciamo ci sono anche le gare del settore giovanile che verranno fatte nella prossima trasmissione insieme anche alle immagini delle cross primo trofeo città di arezzo di cross che verrà disputato domenica prossima quindi vedremo un po queste immagini qui e poi dopo ci sarà il trofeo sasiche di di grassi che si è svolto il lotto di gennaio anche lì una giornata particolarmente fredda ma torniamo un pochino alla gara diciamo della befana campestre questo cross che ormai è collaudatissimo e fra l'altro apprezzato anche da molti atleti che vengono anche da fuori provincia si è un po' diverso da da qualche altro cross alcuni cross sono sono fatti proprio nel prato tutti lineari e senza salite discese qui c'è ci sono due salite qualche discesa varie varie vari cambiamenti di ritmo ecco qui per esempio il passaggio del ponticello che insomma qui e questi qua sono 400 metri in un campo che sono avanti e indietro sono insomma molto caratteristico direi e sicuramente una diciamo un percorso con varianti di ritmi importanti che possono essere anche molto allenanti come dice qualcuno questa è una vera è una vera campestre ecco rispetto allo scorso anno avevamo un campo che ci affondava proprio mezza gamba entrava quest'anno siamo stati fortunati non ha piovuto e quindi il percorso era asciutto ecco qui vediamo un po il transitare diciamo poi i vari concorrenti vediamo la la belardinelli che un po già attualmente leader del gran prix perché siamo siamo giunti a quattro prove del circuito che vediamo treve mattia invece insieme a vignolo che sono stati poi programisti insieme a martinelli e vannuccini che hanno subito preso il comando della corsa poi abbiamo visto anche ragazzini che ovviamente non disdice questi questi percorsi molto impegnati diciamo così però tutto sommato proprio perché il terreno era positivo riuscivano a correre molto bene un po tutti sì no infatti rispetto allo scorso anno e anche a qualche altra annata quest'anno era una campestra asciutta è stata quindi si correva benissimo e il clima era un po quello di freddo perché era era freddo veramente però si corre abbastanza bene si correva ecco qui andando un pochino anche a spulciare in popoli che sono stati poi protagonisti principali dobbiamo dire che trevi mattia che poteva fare sicuramente anche la gara in circuito ha preferito fare questo alcuni anche per motivi di tempo altri perché non volevano cimentarsi per di tanto volevano anche vincere anche forse la manifestazione stessa c'è cominciare a avere una certa età c'è più di 40 anni quindi confrontarsi con ragazzi che vedremo dopo che sono non c'hanno neanche 20 anni ragazzi giovani sì sì molto brillanti molto brillanti la teoria di Calivorno che sono sono fortissimi penso che che poi fra l'altro hanno vinto proprio la il gran pri toscano anche dopo la quarta prova di di domenica scorsa ma non li conosco bene ma penso non siano toscani questi siano da fuori anche se anche se Livorno c'ha sempre un buon vivaio ecco qui intanto vediamo poi anche la retrovia del del percorso vediamo serboli poi vediamo diciamo ecco anche di porto menchetti insomma ecco e qui la testa della corsa con vignolo che effettivamente stava tirando molto forte della situazione politica san gemignano atleta direi anche abbastanza giovane che non va male ecco ha tirato insieme a trevi mattia hanno fatto una gara proprio molto molto io non mi ricordo adesso chi era però è arrivato secondo la corsa coppia domenica scorsa era in coppia con un altro adesso non mi sfugge il nome però davanti c'era Nicola e Matteo Paganelli quindi insomma quindi erano abbastanza sono abbastanza forti perché sono stati distanziati di pochi secondi e vuol dire che sono sono dei bravi attretti e qui vediamo anche Martinelli che è un nuovo acquisto diciamo della polisportiva di policiano che ha avuto qualche aveva era mezzo infortunato invece poi alla fine ha avuto gareggiare qui vediamo proprio l'allungo finale di mattia tre perché va a vincere questa questa gara quindi davanti a vignolo che è un ragazzo molto più giovane poi terzo posto per Martinelli Lorenzo quarto posto per francesco vannuccini poi alla quinto posto è giunto capraro craparo craparo si è lì l'atletica calenzano e poi dopo il sesto posto era falaschi patrizio si avesse sanzioporco ecco qui vediamo comunque sta tenuta un po particolare poi la volata qui al settimo posto refi mirco poi davanti all'ottavo posto che cincini luca nono è giunto frank sciro il capo valente di napolano poi il decimo posto per giacomo ragazzini ecco qui si sosseguono un po gli arrivi poi vediamo soldini aldo che va addirittura diciamo secondo posto nella categoria davanti c'è stato renzetti stefano nella categoria dei veterani e quindi quest'anno veramente anche lotta serratissima nella categoria dei veterani terzo posto è giunto anche burroni giovanni poi ecco quarto posto lucioli massimo di livorno team e quinto posto stefano sinatti al sesto del siena morisse davis sansepolcro nella categoria invece degli argento la vittoria andata santi di sant'angelo dell'atletica casone noceto questa è un'atleta che ormai conosciamo insomma si ha cambiato era ha cambiato società quest'anno quindi sicuramente l'atletica casone noceto tenta il campionato italiano master di mezzo maratona lui è uno che i punti riprende perché mi sembra del 52 quindi sarebbe anche il primo anno m 65 punti al secondo posto una vecchia conoscenza roberto cassi che è tornato a correre anche lì dall'anno scorso quindi sta il primo anno argento nel 1957 sicuramente quest'anno darà il filantor c'era molti a molti 60 anni insomma e nella categoria invece degli oro silvano sguerri ovviamente una marcia una marcia in più rispetto a tutti gli altri secondo salvatore terzo pignardi e poi nel settore femminile invece abbiamo detto la vittoria è andata per velardinelli roberta davanti a lucia tiberi sanarelli nicoletta poi abbiamo mariottini elisa la regasina lunga poi a seguire un po tutte le altre concorrenti e qui siamo passati invece la gara del junio al segno esatto femminile questa è la gara diciamo che effettivamente non è stata una bella gara perché considerando considerando anche il numero di partecipanti arrivati insomma 43 atleti che si sono diciamo hanno arrivato hanno fatto questa gara qui insomma considerando la giornata un po particolare poi altre che si erano inserite nella gara degli dei master come la velardinelli che poteva fare tranquillamente anche questa gara qui però qui c'era veramente un po il top della anche della toscana per quanto riguarda i cross abbiamo visto anche recentemente la quarta prova del cross e le protagoniste che sono state a policiano poi sono state anche i protagonisti finali nella cosa della corsa del neto e qui chiaramente sono tutti diciamo avvicinamenti che ci saranno poi per i campionati di società del prossimo 29 abbastanza vicini la prima prova sarà tenuta a pietra viva acqua viva pietra viva pietra viva vicino ambra vicino ambra quindi il 29 quindi è una località nuova per tutto penso per i campesti per la prima volta c'è penso che organizzano una gara lì quindi sappiamo che è un bellissimo posto quindi vedremo un po quello che offrirà diciamo questo ambiente nuovo un altro ambiente diciamo per i cross e come sarà nuovo anche domenica prossima per quanto riguarda trofeo città di arezzo di corsa campestre riservato al discorso provinciale di società del settore giovanile ma con l'inserimento anche delle gare degli assoluti quindi sarà una mattinata importante alle nove e mezzo fino a mezzogiorno e mezzo ci saranno queste competizioni dietro le mura quindi proprio accanto alle scale mobili ci sarà realizzato questo corso io ancora ho capito dove era però ancora non riesco a immaginare come possa esserci una campestre perché non mi ricordo bene il corso dovrebbe essere anche abbastanza buono c'è un chilometro e mezzo ogni giro pertanto ci saranno cinque chilometri per il settore maschile quattro per il settore femminile più dopo ci saranno le varie distanze per il settore ragazzi cadetti sì sì esatto e qui intanto ecco invece in questa gara della categoria degli assoluti e qui abbiamo visto diciamo alternarsi nella testa della corsa le tre atlete due della serie castello la chiara ingletto e la tiziana gianotti e poi la mohammede ma un mood del gruppo sportivo fiorino poi subito dietro la bertolotti e la romano già da questa che addirittura un'allieva sapevamo le sue forze per capire insomma già posizionarsi nei primi cinque posti un allieva significa che ha delle settimane dopo si è arrivata la junio settimo l'ottavo poi arianna fabbri è arrivata settima assoluta un'altra atleta questa via retina che gareggia con i colori dell'asi di smalacone di firenze e quindi diciamo che ecco che vediamo l'arrianna fabbri però ecco abbiamo anche qui assistito a una gara molto incerta fino quasi alla fine proprio nel finale la ingletto che va a vincere in maniera netta nei confronti della compagna di squadra gianotti e della mohammede mahmud la gianotti non è più giovanissima esatto questa che era master e quindi vecchia per dire insomma era a una certa età però è sempre stata forte la morelli poi abbiamo visto in precedenza della giada poi qui vediamo la fabbriana a giungere al traguardo e poi la setti la benigni la signori ecco in questo caso qui diciamo che la presenza retina era rappresentata da banneschi francesca che che è giunta alla sedicesimo posto e la cosa è la poi abbiamo l'altra retina invece la monarchina elisa è arrivata al venticinquesimo posto quittà sono poi da qui di lucrezia i master sono partiti ecco qui è partita la gara assoluta assoluta quindi vai da per il grampi la terza prova del grampi anche qui direi una gara molto molto combattuta moleno perché in certa firma incertano 80 atleti alla al via di questa gara i primi due giri sono dati sono stati in testa 5 persone 5 6 persone che dopo all'ultimo hanno allungato i due ragazzi dell'atleta di calivorno e hanno lasciato in terza e quarta posizione niola e però ecco direi che nio ha fatto una bellissima gara addirittura insomma c'è in certi momenti sono rimasti lì sono rimasti con terranova righi verdi insomma ecco taos zaccaria che ha recuperato è rimasto un pochino dietro è rimasto quindi un gruppo di una decina di unità che hanno sicuramente dato vivacità anche alla competizione poi cannucci un altro atleta che abbiamo conosciuto recentemente già da qualche anno ma però ecco recentemente l'abbiamo visto ancora molto più pippante rispetto agli anni precedenti aveva vinto la corsa di natale aveva vinto quindi ecco questo in questa specie la caratteristica forse di questa corsa che questo questo passaggio diciamo del ponticello molto sicuro comunque è stato di vita apposta per passare da una zona all'altra però apprezzato molto dagli atleti e questo va bene quando non sono più di 100 concorrenti quando sono più di 100 bisogna allargare il ponte che altrimenti sì ecco che anche questo andare e andare diciamo nella vigna del borghini ovviamente ha dato diciamo un pochino di lunghezza anche al percorso stesso ma soprattutto per farlo poi vedere a tutti insomma ecco sì rispetto al campionato italiano vispe che avevamo fatto quattro anni fa il percorso è stato un pochino accorciato anche perché anche per esigenza la gara era cinque chilometri quindi bastava quel percorso lì senza andare a sfondare gli altri campi che uscire fuori da certi schemi anche organizzativi che ci potrebbero creare problemi qui intanto vediamo la coppia di Livornese le storie politiche ovviamente hanno tirato la gara fin dalle prime battute qui intanto abbiamo Cannucci e poi subito gli entri invece la lotta e la serrata fra Attiglio Niola e Alessandro Terranova direi che l'atleta nostro poi Alessandro Annetti che è al rientro Tartaglini che è andato molto forte direi un altro atleta quindi diciamo che la squadra retina in questa fase si è ben comportata ora ci auguriamo che ecco abbiamo Berini Pietro poi dietro Michius Malvi comunque c'è da dire che la squadra retina te dici che insomma io vedendo le forze delle altre società ogni gara ha la sua storia quindi vedremo un pochino quello che succederà ovviamente se saranno presenti un po' tutti i vari componenti della squadra retina diciamo che ce la possiamo fare ce la possiamo fare no perché ce la giochiamo la città di Calivorno è fortissima e c'è stato un cambio di società anche la Luca del Nista del Nista ha visto Luca ha visto Luca quindi il Piappone no non aveva bisogno lì era chiuso mentre dalla parte di qua c'è a buone chance quindi c'è poi c'è il Fiorino poi c'è poi c'è la cazzo il fanquese sì sì no no la gara chiaramente se la devono diciamo tutti se la devono giocare perché non è che anche gli altri temeranno la nostra la nostra partecipazione quindi ovviamente la nostra incognita è che partecipano tutti poi se il Calil partecipa Nio l'ha detto già che è già pronto per partecipare sta crescendo costantemente Nio quindi queste gare qui fra l'altro per lui è anche breve quindi trovando un percorso un pochino più lungo può dare ancora più vivacità che è l'organizzatore della gara di domenica prossima quindi ecco Cardelli è andato molto forte Giuseppe il vecchio Giuseppe Cardelli sempre molto forte qui diamo Alessandro Annetti che ancora deve acquisire un po' di diciamo di allenamento però è quasi pronto quindi lo vedremo sicuramente in funzione come vedremo molto bene anche Alessandro Tartaglini che è la prima esperienza di cross ma già con direi con buoni buoni propositi poi Simone Lanzi che è anche un altro una vecchia guardia che però diciamo quando se non ha in topi particolari può dare la sua la sua diciamo la sua zappata giusta insomma ecco poi Fatichenti che anche lui le prime esperienze nei cross ma purtroppo questo periodo qui non sta particolarmente bene qui vediamo invece l'allungo dei due atleti diciamo compagni di squadra che hanno condotto la gara in battute poi qui Niola che chiaramente era tallonato da Terranova un altro personaggio che la telecastello ha messo in campo ho visto anche domenica che ha fatto una bella gara a Terranova quindi sta abbastanza bene quindi ecco questo c'è e quindi vedremo ora sono gare sono gare tutte 4-5 chilometri quindi c'era sulla 10 chilometri la rivoluzione la tenuta di queste persone sulla distanza quindi vedremo chi ha la più base qui intanto abbiamo Christian Taras poi abbiamo l'accuntato da Lieni qui vediamo no no sono andati molto molto bene vediamo Berini un altro che Mediusci davanti Marvi direi che comunque sia si sono ben comportati anche gli atleti anche Aretini diciamo che molto spesso non vanno a fare cross da altre parti ma in questa occasione sono presenti e quindi danno una loro zampata giusta quindi ci auguriamo anche a Rigucci mi sembra sì a Rigucci quindi vedremo ecco già domenica prossima nel trofeo Città di Arezzo di cross sicuramente già un'altra sarà un altro indicatore importante per quanto riguarda poi sicuramente la forma per le squadre Aretine sicuramente perché qualcuno lì fuori ci sarà ma non una grossa partecipazione come c'era ma è un modo come un altro anche per affrontare un po' un percorso nuovo intanto anche Neri ricominciato a correre anche se con alternanza diciamo di prestazioni e soprattutto di continuità insomma quindi ci auguriamo che possa proseguire con continuità qui vediamo invece abbiamo visto anche l'altro atleta che intanto vediamo nella salita questo qui è un altro aspetto molto bello molto diciamo tecnico qui vediamo ecco Neola che sta preparando la Roma Ostia e quindi è chiaro che avrà i chilometri sulle gambe ma è sempre un battagliero quindi vediamo Taos Zaccaria anche lui alle prese con in questo caso qui era con Verni poi vediamo Cardelli dietro Verni che proprio stanno recuperando nell'ultimo tratto qui Alessandro Annetti che anche lui ha ripreso diciamo in maniera discreta poi ancora Pietrini ecco qui molti giovani della Lega Livorno che sono hai mancato Lemmi in queste ultime due promesse quindi sono ancora molto giovani questi ragazzi qui lotta serrata per il terzo posto vediamo che Terranova cercava di rintuzzare l'attacco di Niola e qui intanto vediamo l'arrivo proprio solitario di Alessio Ristori che poi anche in un commento non si aspettava di poter vincere poi il secondo posto per le compagnie di squadra Raffaele Poletti e poi la volata fra Niola e Terranova e Niola chiaramente non voleva farsi superare e poi vediamo ancora Righi su Verni l'atleta anche dell'alto della Tiberina poi Taos Zaccaria sul compagno di squadra Cannucci poi ancora Giuseppe Cardelli Alessandro Annetti questi sono ecco qui Cardelli poi Annetti che chiaramente poi Lanzi subito dietro lotta serrata serrata con Petrini la spunta l'atleta Petrini di Grosseto e poi Lazzari poi c'era tanta gente ma insomma poi si rispettava i tempi che poi Cristian Taras poi Tartaglini che ovviamente ancora non c'ha fasi diciamo di sprint finale poi vediamo l'atleta di Imola invece che Volverelli seconda allievo e questo è arrivato per il ripieno il primo invece segue Costantino che poi ha vinto anche il Grand Prix Toscano e quelli qui si susseguono insomma ben 80 di atleti giunti al traguardo quindi direi un bel successo per quanto riguarda i cross complessivamente circa 400 atleti hanno preso parte a questa ennesima edizione della Pufana Campestre che bene o male affascina sempre tutti anche perché poi sono stati premiati tutti anche all'interno dello stand lo stand a disposizione con il caldo che vediamo un po' ecco il parterre dei premiati sono stati dati premi a tutti i partecipanti quindi insomma anche queste sono delle prerogative interamente tanta gente all'interno della struttura meno male che abbiamo quella a disposizione che altrimenti poi ecco anche gli aspetti collaterali quindi gli stand insomma e nella prossima trasmissione ovviamente faremo rivedere invece le gare del Settore Giovannini anche quelle molto entusiasmanti molto spettacolari insomma e partecipati anche noi siamo molto contenti perché è la 41esima edizione e tanti partecipanti queste altre volte non si erano mai avusi per cui siamo molto contenti il percorso è molto bello e fra io sono convinta che fra circa 58-59 minuti i primi arriveranno ecco con l'inserimento anche nel circuito del Gran Priaretino è un'aggiunta in più da un punto in più ci ha portato nuovi podisti a partecipare a questa corsa noi siamo molto contenti di aver aderito a questo circuito e qui siamo passati invece al trofeo Sasi di Firenze una manifestazione in località Grassina abbiamo visto prima l'intervista del Presidente in cui diciamo sono stati presenti circa 400 atleti anche questa una giornata direi moreno particolarmente fredda gelida basta guardare come sono vestiti tutti però ecco diciamo che il Gran Pri diciamo ha raggiunto un'altra un'altra località questa di Firenze insomma come tante altre manifestazioni che quest'anno saranno anche nuove era abbastanza comoda come località perché uscita dall'autostrada a Firenze Sud e un paio di chilometri eravamo già a destinazione quindi era anche non era molto disagiata per arrivare e c'è da dire che effettivamente quella mattina è stato tantissimo freddo e poi la partenza alle nove insomma la partenza nove di gennaio con freddo in quel modo è l'abitudine che hanno i fiorentini ma non solo i fiorentini anche parecchi altri anche perché vogliono finire la svelta quindi la gente partecipa anche di più perché sanno che a mezzogiorno sono a casa quindi certo ecco te fra l'altro hai visto tutto il percorso della gara quindi un percorso molto impegnativo però direi spettacolare sì ecco le immagini le prendevo dalla macchina dentro la macchina e infatti saranno un po' mosse però ecco qui è partito sono partiti erano i 5-6 in partenza fra cui Annetti e Tartaglini poi Annetti è scoppiato scoppiato insomma si è rallentato e sono rimasti in due ecco che c'era Ermilie e Bianchi Filippo il ponte Scandicci che poi verrà superato da Labbadia 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 del Med del Maiano e poi Tartaglini che è andato molto forte è stato addirittura a un certo punto anche a contrastare i primi tre dopo al termine alcune della salita l'ho perso perché con la macchina eravamo davanti e però ecco immaginavo che sarebbe rimasto su quella lì terza o quarta posizione e anche i ragazzini lo stesso un altro di quelli che sono andati forti poi nel mezzo c'era anche Ref abbiamo visto che era davanti a Domi Alessandro e poi anche a Domina Stefan diciamo atleti diciamo rifugiati che la Megli Milena li segue costantemente riporta nelle gare in mezzo c'era anche Alessio Lepore dell'esercito quindi un'altra atleta che conosciamo anche per le sue caratteristiche però ecco direi molto partecipata anche questa gara fra l'altro addirittura quest'anno con l'inserimento del Grand Prix sono rimasti molto soddisfatti perché hanno raddoppiato diciamo le iscrizioni quindi questo ci fa piacere e vuol dire sicuramente la Valle Ardinelli che sicuramente non è dovuto all'incremento cioè il Grand Prix ha portato molti centri diversi che non c'erano insomma ecco per dire e qui siamo nelle fasi finali diciamo circa un chilometro dall'arrivo della competizione che chiaramente anche lì in mezzo diciamo a un parco e che poi finivano proprio nella sede diciamo della casa del popolo di Grassini come arrivo non era felice insomma dopo verremo lì fai 10 metri e arrivi quindi rimane anonimo però era funzionale poi avevano gli spazi diciamo liberi per cambiarsi poi le storie abbondanti insomma quindi è stata una manifestazione che hanno organizzato gli amici di Grassina e che sicuramente vorranno ripetere anche negli anni a venire che intanto veniamo monanni ma come dicevamo la mattinata era particolarmente gelida quindi diciamo abbiamo trascorso queste due prove del Grand Prix particolarmente impegnative quindi è chiaro che ha messo un po' dura prova tutta la c'è da dire che da San Giovanni non eravamo presenti ma la corsa di Natale San Giovanni la Befana è questa è in gelo anche perché è il periodo del gelo però insomma quest'anno è stato molto più gelo particolarmente e qui vediamo l'arrivo di Said Ermili ecco che passa sotto il ponte l'abbiamo ripreso proprio qualche metro prima della diciamo dell'arrivo perché l'arrivo come vedete era molto diciamo proprio sintetico quindi dopo ci sposteremo per vedere qualche altra immagine e poi daremo anche il via alle interviste quindi una volta arrivata la prima donna lasceremo le immagini alle interviste le premiazioni quindi vi lasceremo con gli amici e ovviamente noi l'appuntamento sarà fra 15 giorni per la prossima trasmissione in cui faremo rivedere ovviamente oltre che la gara di domenica prossima il settore giovanile della Befana Campestre poi non so se c'è la possibilità anche un flash della corsa la corsa diciamo del campionato di società che poi dopo riproporremo in una fase molto più accentuata ecco qui intanto vediamo i vari arrivi che vediamo l'atleta Relfimirco Relfimirco si è arrivato poi ancora 398 ancora altri ecco qui diciamo sì 398 dovrebbe essere stato ecco ragazzini era l'epole quello di prima che abbiamo visto poi Relfirco Dommi Alessandro Domini Ragazzini Annetti Alessandro Lepore dovrebbe essere stato un'attreta del posto perché quando passavo con la macchina dicevano com'è Lepore sì perché nell'esercito ma nell'esercito locale qui vediamo qui vediamo ancora Saldini ha venuto molto bene anche Saldini diciamo che gli aretini sono presentati bene perché Saldini ha vinto la categoria Scaglia ha vinto la categoria degli Argento Tantaglini ha vinto la categoria ecco qui la prima donna la Bellardinelli Roberta che ovviamente con questo che consolida la sua leadership anche nel circuito del Gran Prix Saeed Dermini ancora sempre in primo piano anche nelle corse su strada oltre 50 anni veramente l'età corta poco perché l'età vera quella biologica non è la grafica purtroppo ho avuto di gravi infortuni sono avuto la mano di Parigi forse stavo a fermo quasi 7 anni che ne sono pochi poi mi sono cominciato a piano 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 mi sono messo in sesto e ho avuto fiducia in me e pazienza e i risultati si vedono per queste gare veramente infatti stai in forma e magari fare qualche maratona come si deve perché ho un grande rispetto per la triccia leggera e soprattutto per la maratona o la fu bene o non la fu con il 2017 c'è un cambio di categoria molto importante per Gianmarco Scaglia che passa da veterano ad argento e si vede subito oggi hai ottenuto la prima la prima vittoria dai come argento del 2017 del 2017 sì dopo questo è stato il quarto posto a poi il secondo posto al Capodanno di Corsa e il quarto ieri l'altro a Isolotto alla Befana quindi si preannuncia un'annata particolarmente importante per te ci proviamo dai ma qui sono tutti forti è una battaglia è una battaglia siamo con Roberta Belardinelli protagonista e vincitrice di questa corsa per la prima volta penso sei stata qui presente allora un'impressione un po' sulla gara prima sì la prima volta che vengo qua a Grassina bella gara un bel collinare che devo dire sono stata sempre sola non ho mai visto la seconda classificata penso ecco di aver fatto una bella gara sempre in solitaria ecco le caratteristiche del terreno sono adatte ovviamente alle tue proprio alla tua personalità sì a me piace questo percorso perché essendo un saliscendi per me è sempre stata una bella gara perché ecco queste queste referenze qui mi piacciono tanto a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.